Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Oggi sono qui solo per voi, per rilassarmi insieme a voi, oggi veramente un video semplicissimo, dove però sia voi che anche io ci rilasseremo. Quindi, senza dire altro, indossa un paio di cuffie o auricolari. Stenditi sul tuo letto e niente, prova a chiudere gli occhi. Ultima cosa che dico, scusate di nuovo se in sottofondo sentirete un po' di caos, ma nuovamente sta diluviando, ma proprio in modo pesante. Vabbè, allora, inizierò stasera con... ... 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 Ok, mi è piaciuto molto, però lo metto di qua, così, sopra. Che l'ho fatto. Adesso userò questa rosa che è fatta qua al centro in plastica, qua fuori in velluto. Ok. 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 Devo stare attento a muoverla. Ok. 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 Come ti senti? Ok. 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 da tenere in mano è stupenda e anche se stupenda Un'ultima volta. Ok. Molto, molto figo. Adesso ho queste due acque profumate di Sol de Janeiro. La numero 71 e 62, che io adoro. Sono profumi dolcissimi. Questo ha la vaniglia caramellata e macadamia. Ma sai, in realtà, un potto di biscotto e questo che è pistacchio e caramello salato sono per me stupendi. Ok. 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 Non lo vediate. Non lo vediate. Non lo vediate. Ok. Vi è piaciuto? Fatemelo sapere, dai. Prendo un altro drink. Ok. Questa è Jelly Mask di Kiko. Non è uno sponsor. Non lo vedi. 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 Grazie a tutti. Ok, ho ancora due trigger da fare. Il primo è con questa scatola di fazzoletti che mi hanno regalato da Douglas quando ho preso i due profumi insieme a altre cosette. Ok. 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 Ultimo trigger un po' più ingombrante. Infatti spero non faccia danni il cespuglietto. Ok. 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 Ross Powell. Ok. 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 tocca a voi. Iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della Ups community e diventare degli Upsini se siete dei maschietti, altrimenti delle Upsine se siete delle femminucce. Poi lasciate un like e un bel commento se avete un attimo di tempo per farlo, perché a me fa molto molto piacere. Il video di oggi finisce qui, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sotto il tasto. Per andare sul mio canale e vedere tutto quello che volete, sia video che shorts, io ora ti mando un grande bacio e buonanotte. 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 Grazie.